Ritorna a Siligo domenica prossima il premio Maria Carta con una quattordicesima edizione che conferma il grande livello della manifestazione. L'obiettivo ancora una volta è valorizzare e promuovere la cultura isolana non solo musicale. Un patrimonio storico non esclusivamente di matrice etnica che la stessa artista di Siligo nel corso della sua carriera aveva sempre cercato di custodire e trasmettere. Il comitato scientifico della fondazione Maria Carta anche stavolta ha scelto di assegnare riconoscimenti a personalità di valore, non solo sardi conosciuti in tutto il mondo. I nomi sono stati anticipati dal presidente della fondazione Leonardo Marras e dal presidente del comitato scientifico Giacomo Serreli in occasione di una conferenza stampa convocata nella sede della Camera di Commercio sassarese. Ecco i nomi, la cantante Ginevra di Marco e il tenore di Porto Torres Francesco De Muro e poi il concordu e tenore di Orosei, il trio folk sassari per la canzone sassarese, il duo rap menhir, le launeddas e l'organetto dei fantafolco e la comicità dei tre sardi. Spazio anche a quella rete di rapporti che i circoli sardi nel mondo sanno preservare. Quest'anno il riconoscimento è stato assegnato alla federazione presente in Argentina che riunisce decine di migliaia tra i migrati e i loro discendenti. Tra gli ospiti dell'evento di domenica prossima il coro friulano Free Voices, il bluesman di Osilo Francesco Piu e i ragazzi della scuola media a Tola di Sassari. Ci sarà anche uno spazio tutto dedicato alla poesia, con le letture tratte dal libro di Maria Carta, canto rituale. A Siligo sarà presente infine una delegazione del centro di creazione musicale Voce di Pigna in Corsica, con il quale la fondazione Maria Carta nei mesi scorsi ha sottoscritto un protocollo di collaborazione.